Fino al 6 ottobre a Pescara da lunedì prossimo si allargerà l'isola pedonale pomeridiana e notturna nel centro cittadino. Niente auto tutti i giorni, dalle 17.30 alle 2 di notte nel tratto di via Cesare Battisti, compreso tra l'incrocio con via di Amicis e via Quarto dei Mille. La delibera di giunta è stata approvata lo scorso 8 maggio, una limitazione simile è stata adottata anche l'anno scorso, dal mercoledì alla domenica compresi però, ma sembra che quest'anno i commercianti di via Battisti abbiano chiesto di rinnovare la chiusura al traffico però tutti i giorni della settimana. La decisione non è stata ben digerita dai residenti della zona, in particolare il comitato Tranquillamente Battisti, eppure per il comune di Pescara non ci sono stati disagi, non dallo stesso avviso i residenti. Federico Di Filippo, portavoce del comitato Tranquillamente Battisti, ricorda tutti i problemi che hanno dovuto affrontare i cittadini che abitano nella zona. Quello in cui viviamo non si può chiamare quartiere, dice, ma può essere definito come il paese dei balocchi, con tanto di mangiafuoco e burattinai, una sorta di zona franca nella quale tutti possono fare tutto, tranne i residenti. Spaccio, attivandarici, schiamazzi nel cuore della notte, scazzottate, occupazioni del suolo pubblico, violazioni in materia di rumore, in materia di igiene degli alimenti e via dicendo. Ma i residenzi ovviamente l'hanno presa molto male perché significa un'ulteriore limitazione della possibilità di fruire della propria proprietà privata, di accedere alle abitazioni, di parcheggiare, perché questo era uno dei pochi tratti rimasti senza discorario dove i residenzi potevano parcheggiare i mezzi, ma questo vale anche per chi viene qui a fare shopping. Questa chiusura, dobbiamo ricordarlo, si estende fino alle 2 di notte, quindi una scelta assolutamente sconsiderata tenendo conto del carattere residenziale della zona. Quindi sposta il chiasso notturno fino alle 2 di notte e anche oltre sotto le finestre delle persone che vorrebbero dormire tutti i giorni della settimana fino ad ottobre, posti per i disabili che verranno soppressi. Il tutto va in linea con queste scelte disastrose. Se il comune di Pescara dice che non ci sono stati disagi al traffico veicolare, l'isola ha prodotto effetti positivi lo scorso anno. Chiudere già dal mercoledì la viabilità fino alle 2 di notte era già un provvedimento esagerato che comportava grossi disagi nelle vie retrostanti perché tutto il traffico convogliava nella via retrostante del mercato dove c'erano situazioni assurde di macchine in doppia, tripla fila, residenti che non riuscirono poi neanche a rientrare a casa. Adesso, come dire, il topo storpia.